Vedete che è mio cugino che sta in Argentina, mio cugino Francesco, che assomiglia al papà e lui diciamo che... E' l'unico? No, è lui, è lui, è un tipo unico. Cugino Ciccio, vede che qua c'è il mio cugino amico e ci deve spiegare una cosa, che facciamo, rimaniamo con l'euro o torniamo alla lira? E' che sta giù con l'euro, penso che era meglio, sordiavamo meglio, ma questo cazzo di euro non c'entravi l'euro, se non c'entravi l'euro, come cazzo faccio, non lo faccio io, anche andavo in una barruccia, che c'entravi l'euro. Ma tu camminavo con una barrucciata di lire? Con una barrucciata, con 2 mila lire mi facevo pieno, andava là, ma il sole 20 euro e Pasquale la pompa che stava a schiccia, la stava a schiccia. Ah, per lo mio. Non è che la schiccia, la terra? Che ti schiccia, c'è la grucia, c'è la grucia, la grucia Giovanni, non ti preoccupare con la grucia. Saluto il cugino maciccio? Saluto il cugino, il mio cugino. E a tutti i miei amici? A tutti i miei amici, pure i miei amici. E un nemico tu non ce l'hai? Ah, i miei amici. Saluto pure a Emanuele, a Giovanni. Emanuele è in un palazzo, 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 Emanuele. Emanuele è tu, non lo conosci? Oh, guardatevi. Giraci, la giraci, la verba a casa. Emanuele è il palazzo, in un palazzo, in un palazzo. Emanuele è il nipote del cugino Nino, da Rettura, che era in Argentina. E saluto il cugino il cugino, saluto il cugino il cugino. Il cugino il cugino? Eh, che è all'Australia, a dove? All'Argentina. All'Argentina. Cugino Ciccio di Masi. E io saluto Gregorio Gatto, che è di Accopla. All'Australia. Emanuele. Un saluto. Vabbè, saluto a tutti. Arrivederci. Eppure a Saru, Carlo Calambrini, che ci dica. Saluto. Un saluto.